La gara del Massimino La gara del Massimino Il modulo da utilizzare, il 4-3-3 o 3-5-2, sarà sciolto soltanto nell'immediata vigilia della gara. Importanti potranno intanto rivelarsi i recuperi di Castro, Spogli e Rolin. Senza lo squalificato Rinaudo, a centrocampo i giochi sembrano fatti. A rimpiazzare l'argentino sarà Plasil, che si affiancherà ad Izco e Lodi. In difesa, davanti ad Andukar, la scelta potrebbe cadere su Bellusci ed uno tra Spogli e Rolin, al centro, con Peruzzi e Monzone sulle fasce. In avanti possibile il tridente con Bergessio, Barrientos e Chieco. Ma al di là degli schemi e degli uomini utilizzati, questa volta, come detto, conterà in primo luogo il risultato, che per continuare a nutrire speranza e salvezza dovrà essere gioco forza positivo per il Catania. La gara del Massimino sarà diretta da Rocchi di Firenze.